Nonostante l'emergenza coronavirus e le attività processuali praticamente paralizzate, arriva una durissima decisione nei confronti dei coinvolti nell'inchiesta antimafia extra fines. Condanne per oltre 130 anni di detenzione sono state decise dal GUP del Tribunale di Caltanissetta. Ieri il sessantenne Salvatore Rinsivillo, ritenuto il nuovo capo del gruppo di mafia, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il GUP al termine del giudizio abbreviato scelto dalle difese ha emesso decisioni molto più pesanti rispetto alle richieste avanzate dai PM della DDA di Caltanissetta. Non c'è stato il riconoscimento di attenuanti e le ricostruzioni fornite dalle difese non hanno convinto. L'ultimo a concludere ieri con un intervento protrattosi per diverse ore è stato il legale Giovanni Lomonaco che ha perorato la causa dei suoi assistiti. 13 anni e 4 mesi sono stati imposti all'avvocato Gian Domenico D'Ambra, ritenuto vicino al Rinsivillo che avrebbe intrecciato una serie di affari a Roma. 12 anni e 10 mesi di reclusione per Ivano Martorana, ritenuto referente di Rinsivillo in Germania soprattutto per il traffico di droga. 11 anni a Gaetano Massimo Gallo e 2 anni e 8 mesi a Giuseppe Flavio Gallo nei cui confronti il PM aveva chiesto l'assoluzione. 10 anni e 8 mesi ciascuno inoltre a Filippo Giannino, Emanuele Romano, Alessandro Romano, Aldo Pione, Rosario Pione, 10 anni al carabiniere Marco Lazzari e a Rolando Parigi. Sono tutti ritenuti presunti fiancheggiatori di Rinsivillo che dopo aver ricevuto il comando della famiglia dei fratelli Ergastolani, Antonio Rinsivillo e Crocifisso Rinsivillo avrebbero ripreso a tirare le fila degli interessi economici. Sono state ricostruite in posizioni estorsive e legami illeciti che hanno poi portato all'operazione l'inchiesta extra fines si è dipanata in più tronconi investigativi giunti fino nella capitale. Le difese adesso si preparano ad impugnare la sentenza.